Napoli è stata e sarà sempre antifascista perché è la prima città d'Europa che si è liberata da sola dal nazifascismo con una rivolta di popolo in testa donne e giovani. In questi anni stiamo dimostrando che le quattro giornate vengono ancora prima del 25 aprile, quindi quattro giornate importanti. Il 25 aprile è importante perché è la liberazione del nostro paese, chi rinnega quel giorno e soprattutto fa parte del governo viola il giuramento che ha prestato quando è diventato ministro perché l'elemento fondante della Costituzione è la resistenza al nazifascismo. Salvini a Corleone, inaugurare un commissariato? Inaugurare un commissariato è una cosa importante della Polizia di Stato, il 25 aprile però i rappresentanti del governo devono riconoscere questa data e non rinegarla. Quindi quando Salvini dice che bisogna liberare il paese delle mafie sono talmente d'accordo che cerco di lavorare ogni giorno per costruire anche l'alternativa a questo governo. Grazie.